amici state tranquilli il pane l'ho comprato 40 gradi all'ombra stanno arrivito esageratamente amici mi ero dimenticato di comprare la mozzarella di bufala se qualcuno mi segnala dove ancora ci sono oggi il mio contenente non c'è stamattina non c'è nessuna strada non c'è nessuna strada sapete che mi dico che cominci a fare caldo non c'è il mio che ha lombito torno pazizia ciao pazizia ciao pazizia ho novitato a tuo marito con salute una mano sale su l'altra mano scende giù il movimento letto casca il mondo una prima prima tutto guarda la vita ecco qua ora mi compro ma ti guarda il tempo da 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 posteggio qua va una mano sale su l'altra mano scende giù ciao ciao Matteo Matteo vediamo se trovi una musica di chi da da e non ha ballato Matteo oggi sono autorizzato sono andato pure a buttare la spazzatura la differenziata e quindi nella strada del ritorno sto facendo le tappe per la spesa io sono previgente rispettoso mi hanno dato l'appuntamento per stamattina sto andando a buttare la differenziata e ora mi approfitto per comprare la spesa poi esco la prossima settimana io faccio le uscite di lunedì o di mattedì poi mi rimetto agli arresti domiciliari come a tutti che non devo uscire per qualche cosa di emergenza qua vete Matteo vete qua Messina Ambiente Alza Messina e Servizi Isola Ecologica Alla c'è casa Quina C'è casa piena di plastica c'è 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 che lo dare ok ora mi vado a prendere la mozzarella di bufala poi mi rompe la recotta qua alla contadina, alla contadina ve la raccomando e così oggi vi faccio un bel piatto di pasta e ricotta Matteo qualche po' ti chiamavo muoio e mi cattavo a ricotta davvero ecco qua mi sono venuto agli occhiali, mi rimetto la mascherina disinfettante per i guardi non mi hai trovato il momento potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo giuro l'altra notte è stato bello non esci più dal mio cervello non basterebbe un solo anello e chissà se quando parti poi il ritorno e che cosa fai? e dimmi se questo sentimento vale anche per che cosa fai? che cosa fai? come lo comandiamo? una volta che mi facciamo i film ora invece facciamo noi i film amici ci vediamo fra 5 minuti qua non c'è fila sono quasi vicino a casa quindi vi posso quasi vedere i banani sono po' manco ciao amici ciao a tutti ciao Pazizia Pazizia